Ehi faretti, devo dire una cosa Cosa? Devi tornare a scuola No, qui c'è un errore Io la scuola l'ho finita, ho preso il mio diploma E non ci voglio più mettere piede L'ho bruciato Devi fare 5 anni di scuola di nuovo Dove stai andando? A prendere il carro armato e ucciderti E distruggere questa scuola Perché io non ci torno, hai capito? Vai dentro a scuola E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi E io sono Stefano E siamo tornati con un nuovo episodio di nascondino Questa volta dentro una scuola E io non sono molto felice Che fai lì? Non entro Ma quello è il tuo futuro se non torni a scuola Chi vuole capire capisca Non è vero, non devi dire queste cose Io a scuola l'ho già fatto Ho fatto i miei anni da brava studentessa Pure regolare senza essere mai bocciata Quindi non ci torno Cancellati, non c'è più nulla Devi rifare tutto da capo Quindi adesso vieni con me Che ti faccio vedere la tua nuova scuola I tuoi compagni di classe Il tuo banco E anche la tua palestra, la mensa E tutto quello che vuoi vedere Anche i bagni, va bene? C'è problema Andiamo, dimmi Non riesco a uscire Ti sei incastrata? Aiutami Ferre, non ti posso aiutare? Prontissimi, tocca a me Siccome la scuola è troppo grande Facciamo un piano alla volta dove nasconderci Perché sono tre piani giganteschi Pieno terra Primo piano e secondo piano Tra pieni di aule Facciamo al secondo piano nascondersi Vada pure Allora salgo, salgo, salgo le scale Mentre tu ti devi nascondere Aspetta, aspetta Devo fare una cosa Che cosa? Ah no, non fa Non la faccio più Niente, non mi sono ancora nascosta Perché ho perso tempo a fare Sta cosa che non ha funzionato Va bene, aspetta un po' Volevo essere divertente Ma non ci riesco mai Accidenti a me Povera Ferrenichi Ah no, ecco, era qui Ok, avevo solo C'hai fatto adesso? Quindi sei al secondo piano? Sì Ok Credi? Si ho azzeccato il piano Però non so proprio nel piano Dove stai andando? Come hai fatto a trovarmi? Sai, c'era una scala molto ambigua Ma avevi detto che bisognava cercare nel piano Non nelle botole Sì, ma era il secondo piano E' la prima cosa particolare che c'era Perché io ho detto Dai, è l'ascodiglio più bello del mondo E mi devi rovinare tutto Cos'è questo? Vabbè, io ci provo Mi sa che mi trovi tipo in un minuto Allora, mi serve un piano strategico per salvarmi Facciamo così Sì Sì, 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 sì Sicuramente funzionerà Sono arrivati i nostri compagni di classe Quindi potresti trovare anche altre persone Quindi non essere avventata quando vedi qualcuno Ok? Io te lo inizio a dire Perché poi non vorrei che magari Tocchi una persona che non ti conosce Ti dà un pugno E non vorrei mai Scatteno la risa e sono felicissima No, perché poi ti sospendono E si prolungano i tuoi cinque anni di scuola Quindi è meglio evitare Tef Lo so che sei lì dietro Cioè ho aperto la porta e ho visto la tua brutta faccia Ah, adesso ne sono io Apri Buongiorno signorina Come si permette di aprire il bagno Quando sto facendo i miei bisognini Scusi E tu hai criticato il nascondiglio E tu ti sei messo in quel bagno Chiudi immediatamente la porta Svergognata Non si spiano le strane in bagno Ha capito? Ha capito? Guardi che le doncefone Non mi faccia arrabbiare Adesso lei si sposta Io me ne vado Ok? Ok? Io vado via Dove vuole passare? Dove vuole passare? La uccido Allora Allora visto che tu Scusi? Aspetta no Devo fare una cosa molto importante Visto che tu hai quella skin Non ci provare Io adesso divento Jack Sparrow Ma la prendo io Tanto hai detto di non essere tu Quindi Sei terribile Adesso chiamo Chiamo al preside I cambi Non ho fatto in tempo E purtroppo è finito il round Che emozione Adesso sono il preside Che ti viene a cercare Ok Dobbiamo nasconderci Al primo piano adesso Perché prima eravamo al secondo Quindi adesso al primo piano Vada 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 Veloce Su 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 Forza Quindi mi hai detto al primo Quindi questo dove si spona Ok Perfetto Perfetto Signorino Ferinichi Dove è andato? Non mi troverà mai Mi ha fatto arrabbiare tantissimo Non mi troverà mai Primo piano giusto? Sì Penso di sì Io sono al pieno terra Ho sbagliato Questa è la faccia di silenzio Ah è proprio quella Sì guarda il doppiatore Sto dicendo Ma perché non l'ho fatta così? Esatto Che sarebbe stata perfetta Esatto Ma perché non ci ho pensato Steph è troppo bravo Cosa c'è? Non capisco Ho trovato delle scatole Eh ma sono scatole? Ah ma ti ho toccato pure per sbaglio? Sì Ah ok Volevo fare la scatola Dotto che questa skin È fatta un po' storta Ma non ha funzionato Ai 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 Quindi pieno terra Allora Devo trovare velocemente Un posto dove nascondermi Donnazione No primo piano siamo Giusto? No pieno terra Tu eri al primo piano prima Eh non dobbiamo fare due round? No Facciamo pieno terra Facciamo pieno terra Oddio Vai vai cambiamo Ok ci sto Ok mi sono nascosto Che nascondino serio Che stiamo facendo quest'oggi Ma perché oggi la stiamo facendo Ci fa male registrare la sera Quando registriamo la sera Cioè di solito li facciamo bellini Non siamo persone serie Fatti bene E invece questa volta no Io penso di essere Guardate quanti passi ho fatto oggi Aspetta dove sono finita? 1521 In realtà non mi sono mosso di casa Quindi è il telefono che dice cose non vere Buongiorno signorina La stavo aspettando Ho visto la porta aperta Ho detto questa non l'ho aperta io Che ci fa Cioè che ci fa aperta Ho provato a chiuderla Ma non si crema Signorina Lei ha avuto una rissa Con Hagrid Quando lui stava soldando Facendo i suoi bisognini nel bagno Come si giustifica? Non è vero È un bugiardo Allora vado nell'angolino un attimo Vuole solo attirare L'attenzione Non è vero Rifletta sui suoi errori nell'angolino Per favore vado nell'angolino No non ci vado Per favore La uccido Per favore nell'angolino Adesso la uccido Non c'è una finestra aperta No Dannazione Che hai fatto? Sono un giustiziere Sono Iron Man Mi faccia basare Dai per ora è terribile sto nascondiglio Ma ti sembra Che ti metti nella scrivania Poi sei gigante Anche da covacciato Ti si vedeva Non scappare Non scappare Brutto disgraziato Dai sei finito Ah Dove sei Mi hai toccato Sei tu che mi hai toccato Velo da addosso Cioè ti fai pure cazzare da solo Io non ti avevo manco notato Ma sei terribile Accidenti a te Sei terribile Oh mio Dio Mi fa male la faccia Non posso più ridere Quindi seri Mi fa troppo male la faccia Allora adesso vale Piano terra E cortile Ok Ok Vai Facciamo un round serio Per favore Ok Quindi cerca di vincere Nascondendoti Facciamo le persone intelligenti E serie Quali non siamo mai Però stiamo esagerando Nel senso opposto Quindi cerchiamo Di bilanciare le cose Su forza Sei nascosta Sei nascosta Sì ho fatto Sei stata velocissima Sì Eh Boh Ne ho visto uno al volo Ho detto faccio quello E quindi Mi ci sono messa Infilata Allora Questo bagno è chiuso Giusto Sì Questo bagno invece Si può controllare Non si capisce nulla Nei bagni Ok No Non sei qua Non sei qua Perché sono talmente Deve essere una scuola Abbandonata questa Come giusto che sia Le scuole sono abbandonate Devono stare Guarda Lo dico io Ma cosa stai dicendo Lo dico io Non è vero Non mi credete A scuola si va È molto importante Brava Consolini ascoltatemi Brava Allora Non andateci Ma smettila Sto scherzando Dove sei? Sono dentro la scuola Quindi Ah io ero nel cortile No vabbè Nel cortile mi è sembrato Molto aperto Quindi secondo me Non è caso Come hai fatto? Io non l'avevo mai vista Questa porta Neanche io Però appunto Frugando un po' Sai come Allora Sei un cheater Devi cercare di impegnarti Un po' di più Cioè io allora Ho fatto tutte le scale Doveva essere il rondo serio Ti ho trovato in 40 secondi No dito un attimo Ho fatto tutte le scale Quando tu le fai Poi c'è una porta Nascosta dietro L'ho vista A casaccio E tu la becchi lì In bella vista dal cortile E non ti sei accorta Che aveva anche No non l'ho aperta Dall'altra parte Scusami Io l'ho vista in fondo alle scale Ho detto Mentre gira le scale Non la vedrà mai Ok ok ho capito Ma perché sembra che è il radar Guarda ogni volta che mi nascondo Mi trovo in due secondi Ci sono adesso Ci sono adesso Qua è un altro po' di tempo Ehi no no Vai pure vai pure vai pure Ok Mi piace Quindi piano terra Vale anche il cortile Ma soprattutto piano terra in generale Ok Ok Vai vai trovami trovami Tre minuti ancora per fare Niki Che ancora non mi ha trovato È gigantissimo Sta funzionando il nascondiglio Forza forza Che non ci sono quei tanti nascondigli No ma che Sono entrata nella cucina E mi sono persa Sono capita Abbiamo la cucina Sì sono capitata in un'ala Del piano terra Ok Cioè che non avevo mai visto Te lo dico proprio Magari ero lì E non mi hai visto Chissà chissà Ma questo è il piano più difficile Te lo dico Davvero non si trova nessuno Eh lo so È impossibile È impossibile Ma poi capito Giri gli angoli Ed è come se Non li avessi mai visti Quegli angoli È davvero complicato Ma mi hai già visto? No 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 Ancora no Quindi vuol dire Che non sei neanche passata Dove sono io Eh ma come è possibile? È molto strano Perché comunque Non è che sia così grande Il piano terra No mi stai trollando Non esserci mai guardati negli occhi È un po' strano Mi stai trollando I consolini sanno già Tu non sai Ma io so Mi stai trollando E loro sanno Allora Direi che ho vinto Ma ti voglio dare gli indizi Su dove sono Vai Tra il cortile E il piano terra Lo sapevo Che eri in uno di questi Lo sapevo Mi stavo controllando adesso Ho controllato Guarda Questa parte qua Perché ho detto È l'unico posto Sì Vedi che l'ho aperto Sì Certo Ho detto È l'unico posto In cui non ho guardato Dicono a tutti così Stai zitto Sei un disgraziato Non era un bel nascondiglio Va bene Fai schifo Torniamo al secondo piano Che l'abbiamo fatto davvero male Super troll è quello Quindi torniamo al secondo piano L'ultimo Cosa? L'ultimo è il secondo Non riesce a contare Ma perché non riesce a contare? Non lo so Piano terra Primo piano Secondo piano Perché per me sono tre piani Non sono quindici Capito? Per me il piano terra non esiste Sono uno, due, tre Capito? Ho sempre avuto questi problemi Comunque Anche nelle scale Nasconditi a secondo piano Su Forza forza Ah mi dovevo sì Nascondere Sono ancora in palestra Sì ti ho appena vista Mi dimentico Perché mi fa distrare Hai vista che skin avevo prima? Sì l'ho visto Da bandito Random Per cercarti Avevo in mente Una skin perfetta Ok Ash Perché gotta che c'è molla Non fai ridere Sei al limite del penoso Guarda Te lo dico eh Te lo dico Gatta che c'è molla Che c'è molla Vive il pokemon Pokemon Puoi smetterla? Voglio andare dove mi va E non fermarmi ma Allora Basta dai basta Fede Dove sei? Non ti interessa? Non è così banale come i bagni vero? No no I bagni fanno troppo schifo quei bagni Non fa nascondersi lì dentro Sicura? Sì 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 Ok Poi fidati cioè vedi te No no non mi fido Devi capire Capito Tanto so che comunque in questo piano La nota della mia voce Capito Ci sono pochi nascondigli Quindi non mi costa nulla controllare per sicurezza tutto Ah la palestra è al primo piano? Sì E tu stavi sbagliando piano? Mh mh Ok Ok No è quello il secondo Vedi perché anche io mi confondo ogni tanto Però quello è il secondo Ah ok Cioè è terribile come piano Il mio round si fa il primo piano No non è giusto scusami No sì Adesso te lo fai anche tu al secondo No dai fa schifo A cercarne infatti proponeteci argomenti E cercate di mettere likes a dei commenti di altri consolini su argomenti che vi piacciono Tipo cinema, ristorante, tutto quello che vi viene in mente E noi cerchiamo di trovare mappe a tema Esatto Mettila così Sì ci sta Ci sta Poi ovviamente ogni tanto useremo quelle che abbiamo magari usato per l'altra modalità Quindi per il guess who Quindi magari facciamo un nascondino nelle mappe di GTA Sì ovvio ovvio Possiamo fare tanta 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 roba Non ci trovo Ah ciao Quando inizi a nasconderti scusa? Secondo te scusa Io ho detto magari si confonde il colore delle mie codette con quello della sedia E allora ci sto Però aspetta Dimmi Voglio vedere se è una skin che mi avrebbe permesso di nascondermi Ma non abbiamo niente di minuscolo No no Le ho già cercate Non ne abbiamo Mi dispiace Peccato Sarebbe stato bello Io mi nascondo al primo piano No non vale Sì dai non so dove nascondermi qua Fa schifo Fai che chiudi gli occhi Vai Chiusi? Sì Muoviti No perché Sai com'è Magari mi vedi da una finestra Da cose così E siccome Allora siamo sporati nella palestra Quindi siamo al primo piano Al primo piano? Eh sì Ah ok No ma io La palestra è il primo Io sono spawnato al pieno terra È quello il problema Io nella palestra Strano Sì Che sta succedendo? Niente 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 C'era un mezzo bug Vai pure vai pure vai pure Fere Fere Dimmi Vai in palestra Cioè sei nella palestra? Sì Cosa vuol dire che sei nella palestra? Guardati intorno Dove sei? Cosa sei oltretutto? Mi vedi? O ancora no? Sei serio? Fere Sei serio? Ciao Fere Cioè come hai fatto a salire lì sopra? Allora praticamente Se tu ti metti Non mi è toccato? No Penso di no Guarda io mi sono messo così qua Opla Cioè chi è che controlla lì? Lo so Poi oltretutto Sì Io non esco mai da questa parte Faccio sempre il giro dall'altra Quindi mi sono girato Ho iniziato da lì E da questa porta Sono entrata dall'esterno Quindi era impossibile Quando gli hai iniziato ero zitto Perché tu hai aperto gli occhi Nell'istante in cui stavo finendo di nascondere Mi ha fatto Mi ha visto No però non è che stavo Quindi ero zitto Guardando in cielo Perché ho detto Avrà fatto un nascondiglio Sei una persona terribile Poi ti sei messo quella Per confonderti col colore Esatto Esatto Brava Vedi che ci sei arrivata Così si notava ancora a me Non lo stacco Capisci? Basta ti abbandono Vedi che non posso entrare Beh comunque ammettilo Sono il più bravo a nascondermi No Comunque dai Io direi che ci possiamo fermare così Per questo video di nascondino Speriamo che vi sia piaciuto Nella mappa della scuola È stata davvero figo Bellissima questa mappa Mi è piaciuta Almeno quanto il museo Forse per giocare a nascondino Anche un pochino di più Perché mi ha permesso di trollare Parecchio ferinichi Comunque Fateci sapere Sia se vi piace Quest'idea di cambiare mappa Ogni volta Sia quanto vi è piaciuta La modalità Guess U Perché appunto Quando è uscito quel video Ci sono stati un po' di problemini Con YouTube Quindi non possiamo Analizzare il video Dalle visualizzazioni Ovviamente anche Che i likes e commenti Sono appunto Minori Rispetto al normale Perché appunto Se fa meno views Fa meno tutto E di conseguenza Non abbiamo ben capito Se vi piace tanto tanto Anche quello Quindi magari mettiamo Un sondaggino Per capire meglio quello Perché se Guess U Non mi piace Magari proviamo Con la propante Oppure proviamo A proporvele Tutti e tre A rotazione Non lo so Vedremo Un pochettino Comunque lasciate tanti likes Proponenteci delle location Dove fare il prossimo nascondino Commentate tanto 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 E ci fermiamo così Beh ragazzi Se ci sono già Senteci i miei like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao